La polizia nell'ultima settimana a Messina ha controllato 1.073 persone, 378 autovetture e ha elevato 20 sanzioni e sensi del codice della strada, 3 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo. Tra gli arresti dei poliziotti e le volanti, 1 per maltrattamenti, sequestro di persone, riduzione schiavitù a carico di un 32enne messinese, 1 per evasione dagli arresti domiciliari a carico di un 27enne e, infine, 1 per la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio a carico di un 23enne. Le volanti hanno anche proceduto a denunciare all'autorità giudiziaria 19 persone tra furti, interruzioni di pubblico servizio, lesioni e violenza privata. Denunciata anche una donna di 49 anni che nella mattina di venerdì scorso è stata sottoposta a controllo mentre era alla guida della propria auto in via Trieste. La donna, già segnalata da altri utenti della strada, guidava pericolosamente a zigzag rischiando anche di investire alcuni pedoni. A seguito dei successivi accertamenti le è stato riscontrato un tasso alcolemico ben al di sopra dei limiti massimi consentiti e per questo è stata pure sequestrata la sua auto. Denunciato per furto un 37enne che avrebbe sottratto in una farmacia cittadina e integratori alimentari per un valore di più di 100 euro, nascondendoli in una borsa poi abbandonata quando si è vista inseguito da un dipendente all'esercizio commerciale. Successivamente i poliziotti e le volanti sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo. Infine, negli ultimi sette giorni si è proceduto a sette distinti sequestri di droga, anche a carico di abituali assuntori segnalati alla competentatorietà amministrativa. Sequestrati 1,153,32 grammi di sostanza stupefacente tra marijuana, crack, cocaina e hashish. Grazie. Grazie.